Padova, una busta contenente della polvere bianca è stata recapitata questa mattina nella sede di Equitalia di Via Longin. Subito è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi, la stanza è stata sigillata sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia. La busta sospetta è stata notata da un vigilante della Civis, addetto al controllo della corrispondenza attraverso lo scanner. Dalla missiva è fuoriuscita della polvere bianca. I vigili del fuoco hanno sigillato la busta e portata poi a Mestre per essere analizzata dal nucleo batterologico. Poi è stata bonificata la stanza. Negli ultimi due giorni sono state inviate buste con polvere bianca nelle sedi di Equitalia di altre otto città. Il caso di Padova è il nono.